Edilizia sostenibile verso la transizione energetica, sviluppo di tecnologie e nuovi materiali, progetti che guardano all'Europa, formazione e sicurezza. Questo e molto altro nella trasmissione edili.com, a cura dell'Istituto Professionale Edile di Bologna. Affronteremo insieme con numerosi ospiti e percorsi di approfondimento come cambia il mondo del lavoro, in particolare il settore edile. Seguiteci su TRC e sul nostro canale YouTube.